Brian Cristante si è presentato ufficialmente ai tifosi della Roma Cristante si presenta, arrivare alla Roma era un mio obiettivo. Brian Cristante si presenta ai tifosi giallorossi, vestire la maglia della Roma era un mio obiettivo, sono contentissimo . Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, Brian Cristante si è presentato ufficialmente ai tifosi della Roma. L'ex centrocampista ha iniziato la lunga intervista raccontando le prime sensazioni dopo l'arrivo nella capitale, sono solo buone, a partire dall'accoglienza in aeroporto La città poi non ha bisogno di presentazioni, così come la società che si è visto subito che è organizzata e ha un pensiero preciso dietro tutte le trattative La Roma ha puntato fortemente sul giocatore, arrivando a sborsare 30 milioni di euro in totale, sì, mi ha voluto con grande forza. Da parte mia c'era la stessa volontà e infatti abbiamo trovato subito l'intesa ad inizio mercato Era il mio obiettivo venire qui e sono riuscito a raggiungerlo velocemente A Cristante viene chiesto un giudizio sulle sue stagioni all'Atalanta, è stata davvero un'ottima esperienza, un anno e mezzo bellissimo. Devo ringraziare per questo un po' tutti, dallo staff tecnico alla società alla città. Mi sono trovato da subito bene e sono riuscito a esprimere immediatamente tutto il meglio di me stesso. Sulle emozioni di giocare, per la prima volta. La Champions League, la Champions League è l'obiettivo di tutti. Sin da quando inizi da ragazzino il sogno di giocare in questa competizione è sempre presente. Sono quindi contento di esserci tornato. La Roma ha dimostrato quest'anno di essere a livello delle top e quest'anno bisogna ripetersi. Infine un breve messaggio esteso a tutti i tifosi romanisti, li saluto e li ringrazio perché ho già visto il loro calore, tra l'accoglienza in aeroporto e i messaggi sui social. Quindi da parte mia ci sarà semplicemente il massimo impegno in tutto, in ogni partita e in ogni allenamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.